Come è cambiata la sua vita? La mia vita è cambiata drasticamente perché io da gioire nel 1981 e poi mi sono ritrovato in una odissea giudiziaria che ancora mi coinvolge a pieno titolo, sia in sede civile che in sede penale. Sono stato accusato inizialmente da Alconi, non ha pagato, non ha riconosciuto dicendo che la schedina non era arrivata a Bari. Successivamente sono stato accusato da parte del Ministero delle Finanze di furto falso e truffa ai danni dello Stato. Da questa accusa ingiusta, in quel processo penale a mio carico, la schedina fu accertata autentica, giocata regolarmente a Bari. Il Coni si costituì parte civile, sono stato assolto il 10-2-1987, però il Coni non ha pagato. Perché se una schedina è autentica, mi fu restituita dopo 8 mesi, mi fu restituita l'originale, attualmente è pendente, attualmente è detenuta presso un notaio. Ma il Coni in tutti questi anni non ha mai pagato, ha sempre contestato che la schedina non è arrivata a Bari. Cosa non vera, perché noi da tre anni a questa parte stiamo chiedendo al Coni, sulla base di queste contestazioni false e assurde, stiamo chiedendo, forniteci la prova che la schedina non è arrivata a Bari, perché è impossibile, voglio dire, possiamo continuare in una diatriba giudiziaria su una prova che non posso fornire io, ma che la deve fornire il Coni e il Ministero, perché all'epoca le commissioni di Bari e di Roma erano presedute dal Ministero delle Finanze contro loro e sul Coni. Quindi come posso io dimostrare che la schedina non è arrivata a Bari se l'unico pezzo che è rimasto a me è stata accertata autentica? Mi devono solo pagare, aspetto solo che mi devono pagare, solo che non riconoscono, non pagano. Da questo cosa si desume? Che io nel 1981 ho subito una truffa in piena regola, che il Coni non riconosce, perché se dovesse riconoscere, qui si aprono scenari, a dir poco, non lo so, guardi, la magistratura penale sta già accertando, e io devo riconoscere che la Procura Generale di Potenza già in tutto questo si è attivata, perché vuole vederci un po' più chiaro che cosa è successo in questi 35 anni del passato, perché non è possibile che ci siano stati presidenti, segretari, funzionari della Guardia di Finanza, di tutti che si sono adoperati per rappresentare il falso alla magistratura, tant'è che questo aspetto che la magistratura penale sta vedendoci chiaro su questa falsa rappresentazione del passato, e che la Procura di Potenza vuole andare a fondo su tutti i soggetti che sono stati coinvolti, presumo che tutto questo abbia, in un certo senso, invitato la magistratura civile a trovare una soluzione del caso, tant'è che in data 10 febbraio 2016, davanti al giudice Federico Salvati, in un processo per adempimento contrattuale di quella sentenza del 10.287, che fosse stata autentica la schedina, il giudice aveva invitato con ordinanza del 19.11.2015 di trovare una soluzione, di trovare una transazione con il CONI. A quella data, invece, a febbraio 2016, si sono presentati sia il CONI che la rappresentante della CONI Servizi, l'Avvocato Valeria Panzironi, e hanno detto no, non vogliono transigere. Questo è un fatto, voglio dire, ultimo, ma in quell'occasione loro hanno solo riconosciuto solo delle pendenze di alcune cause perse dei crediti che loro vantavano per circa 100.000 euro, ma non si riconoscono 100.000 euro a Martino Schalpe e non si riconosce il dovuto della schedina, invece, che è stata accertata autentico. È un controsenso tutto questo. Il magistrato ha rinviato la causa per la sentenza al 27 ottobre 2016. Aspetterò fiducioso che la magistratura faccia il suo corso, sia quella civile che quella penale. Lei è stato anche indagato in questa vicenda. Che esperienza ha tratto e che cosa l'ha spinta a proseguire in tutti questi anni? Guardi, devo dire, io ingiustamente sono stato indagato, però ho trovato sempre dei magistrati onesti sulla mia strada, sia quando realmente si sono adoperati per accertare la verità fino in fondo, perché quel magistrato di Taranto, il dottore Augusto Bruschi, dopo sette anni di accertamenti giudiziari mi ha assolto, perché il fatto non sussiste. Quindi, hanno fatto di tutto di più gli accertamenti sul mio conto, non hanno trovato, voglio dire, non ho commesso io quei reati di cui venivo contestato, quindi sono stato assolto e restituito alla schedina. La schedina fu accertata autentica, quella sentenza è passata in giudicata, ed è stato anche recepito come principio di giudicato penale, è stato recepito il 28.6.1991 dalla Cassazione, Malconi, nulla da vedere, non hanno mai riconosciuto. Sono consapevoli però che loro sono inadempienti sulle prove che hanno contestato inizialmente che la schedina non è arrivata a Bari. Non hanno mai fornito in 35 anni le prove che la schedina non è arrivata a Bari. Quindi stiamo discutendo di cosa? Stiamo discutendo che c'è un originale di una schedina che va pagata e che non vogliono accettarla, perché hanno lasciato scorrere tutti questi anni utilizzando soldi pubblici di tutti i cittadini italiani per combattere il cittadino Martino Scialpi. Questa è la realtà. Che può rispondere a coloro che nutrono perplessità sulla fondatezza della sua vicenda, adducendo che in un sistema dalle sfaccette incollate si potesse potenzialmente taroccare una vincita? Allora sotto questo aspetto io sono stato su questo passaggio qui la guardia di finanza con il rapporto del 24-5-1983 sono stato accusato ingiustamente con documenti falsi che sono stati accertati, falsi successivamente nel 1998 dallo stesso tribunale di Taranto. Quindi stiamo discutendo che degli altri funzionari dell'alta finanza con dei documenti falsi, d'accordo, presumo, d'accordo, che presumo con funzionari di Bari io sono stato accusato ingiustamente con documenti falsati. Risultano falsati perché? Perché sono stato assolto io il 10-2-87 da quel rapporto falsato. Quindi se non fosse falsato non sarei stato assolto. E non c'è la prova in questo frangente di anni voglio dire che sono stato sotto processo che il CONI abbia fornito o abbia impugnato la mia sentenza di assoluzione che ne avevano tutti i diritti perché erano costituiti parte civile se non l'hanno fatto vuol dire che questa prova non c'è. La mia schedina era custodita regolarmente a Bari e io oggi ho il diritto di riscuotere quella vincita che mi è stata sottratta 35 anni fa. Proiettiamoci in un non tanto futuro remoto. Che cosa farà se arriverà la tanto agognata riscossione della vincita? Questa è una domanda un po'... Guardi, sono passati degli anni. La prima cosa, dovrò ringraziare tutte le persone amici la mia famiglia, i miei figli che anche se tra virgolette voglio dire qualcuno non si è messo al mio fianco che me ne dispiace di questo però sono sempre i miei figli e io saranno le prime persone che voglio aiuterò. E poi tutti gli amici che si sono prodigati in quest'ultimo, da qualche anno a questa parte che mi hanno sopportato e mi hanno proprio, come si dice si sono messi al mio fianco per arrivare a questo traguardo che non speravo mai più. Che la magistratura, guarda caso, voglio dire tutto questo adesso ha sollevato i riflettori e ci vuole vedere chiaro su tutto quello che è successo in precedenza. Bene, in bocca al lupo, signor Scialpi. Crepi. Grazie. 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 Grazie.